e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questa nuova uscita della The Sherlock Holmes Collection siamo col numero 17 con la prigioniera del campanile ecco qua la copertina andiamo ad aprire insieme il libro andiamo a togliere la plastica ecco qua la copertina la prigioniera del campanile di Sherlock Holmes Collection The Strand Magazine Sir Arthur Conan Doyle qui abbiamo il laterale anno 1908 The Sherlock Holmes Collection andiamo a vedere l'interno del libro la prigioniera del campanile qui abbiamo già un'illustrazione molto bella The Sherlock Holmes Collection come potete vedere questi libri sono molto ben fatti e questo ragazzi è 186 pagine non molto lungo e niente ragazzi mettete piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli